Ciao a tutti, ben ritrovati al consueto appuntamento con Sunshine Money il canale dedicato al mondo dei guadagni online oggi andiamo a vedere un'applicazione disponibile sia per il mondo Android che per quello Apple, quindi per iPhone che ci dà la possibilità di guadagnare soldi in modo assolutamente gratuito e molto molto semplice l'applicazione in questione è questa, si chiama AttaPol come vedete è disponibile sia per iPhone e sia per il mondo Android ricordo che per chi non volesse usare queste applicazioni sul proprio smartphone esistono in rete, sono completamente gratuiti, degli emulatori Android disponibili sia per Mac che per il mondo Windows io sto usando quest'app sul mio computer Windows tramite un emulatore questa è l'applicazione e come potete vedere in questo momento quest'app mi sta proponendo due sondaggi appunto perché questa applicazione ci paga per rispondere a dei brevi sondaggi ragazzi i sondaggi sono veramente brevi quindi è davvero facile guadagnare con quest'app bisognerà scaricarla, installarla ci iscriveremo al momento dell'iscrizione l'app ci farà delle brevi domande perché avrà bisogno di andare a designare il nostro profilo una volta fatto questo bisognerà anche un attimino andare a settare l'app io l'ho settata in questo modo, vi faccio vedere andremo nel settings come vedete qui dovremo andare a settare la frequenza con la quale desideriamo ricevere i sondaggi io ho settato la frequenza massima così appunto da andare a guadagnare il più possibile la lunghezza dei sondaggi ho messo ogni tipo di lunghezza e poi il livello dei sondaggi ho messo 3 stelle una volta fatto questo l'applicazione in automatico ci andrà a proporre dei sondaggi sul telefono ci arriverà la notifica quindi ci viene molto molto comoda e andando a rispondere, ripeto, a dei brevi sondaggi quest'app ci darà dei punti i punti andranno nel balance come potete vedere io in questo momento ho 37 crediti, quindi 37 punti equivalenti a 42 centesimi di euro arrivati alla soglia minima di 50 punti quindi 50 crediti si sbloccherà in automatico il pagamento quindi si illumineranno queste icone e potremo andare a ritirare o soldi cash tramite Paypal oppure in crypto tramite i bitcoin o gli ethereum abbiamo anche la possibilità per chi vuole di donare il proprio credito i propri soldi questo è quanto ragazzi applicazione davvero molto molto semplice molto molto comoda ripeto, assolutamente gratuita una volta raggiunti i 50 crediti minimo possiamo andare a ritirare soldi cash tramite Paypal bitcoin e ethereum veramente molto comodo molto semplice guadagnare con quest'app l'applicazione è assolutamente seria e pagante ho visto in rete varie prove di pagamento quindi provatela provate a installarla sul proprio smartphone o come ho fatto io con un emulatore android sul vostro computer e quindi io vi auguro buoni guadagni con quest'app in chiusura vi ringrazio quindi per la visualizzazione mi raccomando iscrivetevi al canale e attivate la campanellina così da rimanere sempre aggiornati sui contenuti che di volta in volta andrò ad aggiungere vi ricordo che se volete sostenermi in modo assolutamente disinteressato potete farlo in BAT tramite il sistema di Brave di cui ho parlato un po' di tempo fa e di cui vi lascerò anche il link al video in chiusura sistema che in Italia non è ancora attivo quindi vi aggiornerò nel caso oppure tramite i portafogli che trovate in descrizione io ve ne sarò assolutamente grato io sono Stefano vi auguro buoni guadagni a tutti ciao e al prossimo appuntamento